Benvenuti su News Mix Up. Prima di svelare l'ultimo scoop, vi estendiamo un caloroso invito. Gentilmente, premete il pulsante Iscriviti e attivate le notifiche per rimanere costantemente aggiornati sulle ultime notizie. E se il nostro contenuto vi colpisce nel cuore, non esitate a mostrare il vostro apprezzamento premendo il pollice in su, lasciandoci un gentile Mi piace. Vi siamo profondamente grati per il vostro supporto incondizionato. Oggi ci riuniamo in un'atmosfera di profonda tristezza e commozione per onorare la memoria di una leggenda della musica. Toto Cutugno ci ha lasciati il 22 agosto 2023 e i suoi funerali si sono svolti nella magnifica Basilica dei Santi Nereo e Achilleo a Milano. La cerimonia commovente ha preso il via alle 11 del mattino, segnando un momento toccante. La decisione della famiglia di non allestire una camera ardente ha creato un'atmosfera intima e rispettosa. Il pubblico ha risposto con un caloroso applauso al feretro di Toto Cutugno, sottolineando l'affetto e il rispetto che aveva conquistato nel corso degli anni. Tra i partecipanti alla cerimonia c'erano la sua amata moglie Carla, il figlio Nico e numerosi amici e colleghi del mondo della musica. Anche noti artisti come Gianni Morandi e Pupo hanno voluto onorare il suo ricordo, abbracciando la famiglia e condividendo il loro cordoglio con i fan e i giornalisti presenti. Toto Cutugno è stato non solo un grande artista, ma anche un uomo straordinario e un amico prezioso. Questo è stato enfatizzato da Enzo Ghinazzi, noto come Pupo, che ha espresso il suo rispetto e la sua ammirazione per l'artista. L'eredità di Toto Cutugno va ben oltre i confini italiani. Le sue canzoni, tra cui l'indimenticabile, l'italiano, hanno conquistato il mondo e continuano a influenzare molte generazioni di artisti. Questo grande artista ha lasciato un segno profondo e duraturo nel panorama musicale mondiale. Colleghi della musica come Laura Pausini e Fabio Fazio hanno condiviso il loro cordoglio, ricordando Cutugno come un uomo gentile e un grande italiano. Le manifestazioni di affetto provengono da tutto il mondo dello spettacolo, sottolineando l'importanza e l'influenza di Toto Cutugno nella cultura musicale globale. Prima di concludere, con le rivelazioni di Adriano Celentano vi invitiamo a condividere i vostri pensieri e i vostri ricordi su Toto Cutugno nei commenti, per rendere omaggio a questo grande artista che ha toccato così tante vite. Vi ringraziamo per aver condiviso questo momento di commozione con noi. A presto, oggi è un giorno di tristezza e di riflessione, ma anche di celebrazione per l'incredibile contributo musicale di Toto Cutugno, che continuerà a vivere nei cuori delle persone per sempre. Come ha affermato Adriano Celentano, ti voglio bene, Toto.